È fondamentale non toccare e non rimuovere gli ordigni, è categorico, non si può andare in deroga a queste cose, soprattutto gli agricoltori che sono coloro che rimuovono più facilmente questa tipologia di ordigni, non li devono toccare ma avvisare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza. Come è avvenuto il ritrovamento? Rando, l'aratro ha girato sopra questi ordigni, poi li abbiamo presi pian piano e li abbiamo spostati, perché era proprio la fine del campo, ho detto che li abbiamo messi da parte, voglio dire. Gliel'hanno detto poi che non doveva toccare? Sì, infatti me l'hanno detto che non doveva toccare, però ho detto pian piano, con i guanti mi sono messo, pian piano li ho spostati. Non ha pensato alla pericolosità? No, no, veramente, la prossima volta magari ci penso. È di questa mattina l'ultimo intervento in ordine di tempo del nucleo EOD del Genio Pontieri di Piacenza, specializzato nella bonifica di ordigni regolamentari. Siamo a Rizzolo, nei pressi di San Damiano, nel comune di San Giorgio, dove un agricoltore ha trovato due ordigni e li ha spostati a mano, come capita a tanti suoi colleghi, che spesso sottovalutano la pericolosità di queste bombe, che pur essendo sepolte da 70 anni possono essere ancora letali. Si tratta di due piccole bombe d'aereo a frammentazione di nazionalità americana, del peso di 20 libri, circa 10 kg. Sono bombe d'aereo a grappolo e venivano lanciate come obiettivo su aeroporti, per colpire solitamente velivoli che erano a terra parcheggiati. Sono particolarmente pericolose? Sì, in questo caso abbiamo valutato le spolette, i due accenditori che sono rimasti in sicurezza, perché non si sono armati completamente. Il motivo potrebbe essere il fatto del rilascio a bassa quota, che non c'è stato il tempo minimo per armarle. Perciò fortunatamente possiamo rimuoverli e portarli in una zona più idonea per la distruzione. Distruzione che avverrà facendo una buca, un fornello, perché noi gli distruggiamo gli ordigni sottoterra. Ogni anno il nucleo EOD del Genio Pontieri di Piacenza bonifica circa 200 ordigni nell'area di competenza, che comprende tre province emiliane e sette toscane, dieci gli interventi nel Piacentino dall'inizio del 2013. Generalmente la bonifica riguarda proiettili, bombe a mano e materiale di artiglieria, ma capitano anche interventi molto più impegnativi, come quello del 2008 alla Cavallerizza a Piacenza, dove la bonifica di una bomba d'aereo provocò l'evacuazione di migliaia di residenti.